Armi, droga, appalti, controllo del pubblico e del privato e milioni di euro in ballo. C'è di tutto tra gli elementi salienti dell'operazione ADA scattata nel Reggino questa mattina, condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria e coordinata dalla DDA. In manette 65 persone, tra cui il sindaco di merito Portosalvo, che gli investigatori hanno definito come organico alla Cosca Iamonte. Costantino, sì, abbiamo il GIP, ha accolto l'impostazione accusatoria, secondo cui il sindaco in carica fino a qualche giorno fa era assolutamente intraneo alla Cosca Iamonte e quindi non si trattava soltanto di un concorso esterno nell'associazione. Il che dimostra la capacità di penetrazione pervasiva di condizionamento che l'Andrangheta, nel caso di Specia alla Cosca Iamonte, che è storicamente radicata nel territorio di merito, riusciva ad esercitare sulle istituzioni. Esemplare nel caso degli interessi verso le opere pubbliche, quello della Cosca è rivolto alla centrale a carbone di saline ioniche. Non è pensabile che una grossa opera pubblica possa, per così dire, non suscitare gli appetiti delle organizzazioni. Anche se lì sul punto siamo ancora in una fase assolutamente embrionale, però dalle intercettazioni emerge chiaramente un interesse, anche per la realizzazione di questo tipo di opera, che ovviamente significherà lavori, mano d'opera e quant'altro. Ma il mandamento è stato detto nel corso della conferenza stampa sull'operazione aveva interessi in ogni settore dell'attività economica e sociale del territorio, persino nello spostamento di Campi Roma o per una gara di soli 8.000 euro per la cura del verde della villa comunale di Merito. Il tutto per ottenere un ritorno di tipo elettorale. Ci sono le intercettazioni telefoniche e ambientali, quindi la voce degli attori protagonisti che formano la prova. Si parla in chiaro nel corso di questi anni di tutte le campagne elettorali. Intervenire su un lavoro di 8.000-12.000 euro, come nel caso di Specie, voleva dire poi quando sarà ora di votare, tu operaio che hai lavorato per quella ristrutturazione di quel marciapiedi della villa comunale, ti dovrai ricordare e voterai per il candidato da me per scelto. Questa è la logica criminale sul controllo elettorale.